Guardi, intanto la polizia ne ha liberate svariate, perché anche su questo, insomma, Mario, chiaramente sono di questi casi, lei li racconta tutte le settimane, ce ne sono un'infinità, no? Perché purtroppo sono anche anni e anni e anni in cui si è deciso di non intervenire, che si sono stratificati. Però negli ultimi 16 mesi noi abbiamo, con questo governo, sono stati liberati oltre 110 stabili occupati e quasi 1000 alloggi popolari in un anno. Dopodiché siamo intervenuti sulla normativa, pacchetto sicurezza, ne parlavamo prima, con una serie di norme che appunto sono al vaglio del Parlamento e quindi speriamo, mi aiuti a dire al Parlamento approviamolo. Acceleriamo. Che prevedono una serie di cose sulle occupazioni abusive, la più importante della quale è sempre una battaglia che abbiamo fatto io e lei. E cioè il fatto che la polizia, di fronte ad alcuni casi particolari, per esempio il caso in cui quando ti occupano una casa è la tua unica abitazione, la polizia interviene per lo sgombero prima di passare la convalida del giudice. Però questa non è ancora legge. Si può farlo immediatamente. Però questa non è ancora legge. Speriamo che non è così perché si vuole prima la convalida del giudice. Dopo la legge la convalida del giudice può arrivare dopo.